Musica Nuova edizione del TG Web, quella di venerdì 23 di novembre, bentrovati. Tornerà a riunirsi martedì prossimo, 28 novembre, il Consiglio Comunale di Senigallia. La sessione convocata per le 16.30 dal Presidente del Consiglio Enzo Monachesi si aprirà come di consueto con lo spazio riservato alla presentazione di interrogazioni e interpellanze tra i punti all'ordine del giorno, acqua bene comune rispetto dell'esito referendario, la mozione di sfiducia da parte del gruppo consigliare PP e PDL nei confronti dell'assessore al bilancio Francesca Michela Paci e poi all'ordine del giorno presentato dal consigliere Paradisi che chiede le dimissioni del Sindaco e di Giunta. Per cercare di sopperire alle difficoltà economiche di tante persone al tempo stesso per agevolare la fruizione del centro storico negli orari di minore affluenza, l'amministrazione comunale ha deciso di sperimentare una nuova soluzione. L'intera superficie di Piazza Garibaldi sarà disponibile a sosta gratuita dall'8 dicembre al 15 gennaio, limitatamente alla fascia oraria dalle 13 alle 17. La giuria del premio per la biodiversità nell'agroalimentare delle Marche, istituito dall'Associazione Festa della Cicerchia e Slow Food Marche, ha deciso all'unanimità di assegnare la settima edizione del premio a Flaviano Bordeaux della fattoria San Martino di Monte San Martino, provincia di Fermo. Inaugurata oggi la ciclofficina. Vediamo. Inaugurata la ciclofficina, un laboratorio di riparazione delle biciclette donate da privati o rinvenute sul suolo pubblico e non reclamate presso l'ufficio economato del Comune. Una bella giornata per la città di Senigallia oggi perché all'interno della settimana europea della riduzione dei rifiuti abbiamo inaugurato la ciclofficina. La ciclofficina è un progetto che insieme alla Fondazione Caritas e a tanti partner che sono presenti oggi a questa festa sarà possibile recuperare e riutilizzare le biciclette che sono state abbandonate nel nostro territorio e quindi non rottamarle ma recuperarle e rigenerarle e poi riconsegnarle ai cittadini senigallesi ma soprattutto alle persone più bisognose. L'istituzione della ciclofficina fa parte del progetto Velo Riciclo, cofinanziato per il 40% dalla Regione Marche. Attraverso questa ciclofficina daremo lavoro a tanti giovani e attraverso questo protocollo della Caritas ma soprattutto rilanceremo il tema della mobilità sostenibile, la bicicletta è per noi il mezzo per eccellenza della mobilità sostenibile. Ostravetere Energy Day, sabato 24 novembre l'amministrazione inaugura il parco fotovoltaico comunale e gli impianti fotovoltaici destinati alle scuole, 7 ettari dedicati alla qualità ambientale del territorio e all'utilizzo di fonti energetiche alternative e sostenibili. Presentazione a Iesi del libro della senigalliese Luciana Quattrini, vediamo. Adriatico, gli occhi del Puma, è il secondo giallo scritto dalla senigalliese Luciana Quattrini che è stato presentato a Iesi. Il giallo ha una squadra di investigatori che io mi porto da un libro all'altro ed è capitanata dal commissario Rodi. Il commissario Rodi è un personaggio molto sfaccettato e che in qualche modo in questi anni mi ha dato molte soddisfazioni in quanto è sempre un uomo comunque che cambia, quindi non si ripete mai la sua storia uguale ma cambia nel tempo. È un uomo assolutamente scrupoloso nel suo lavoro ma che ha una vita privata molto complessa. Non c'è niente di epico nei crimini che io racconto, sono crimini che accadono a persone comuni perché ognuno di noi in qualche modo ha un lato scuro che non dichiara mai e che viene fuori solo in certe situazioni. Presentato per la prima volta al Salone del Libro di Torino di quest'anno, il coinvolgente giallo dell'autrice senigalliese è ambientato proprio nella sua città. Questo è prima di tutto un omaggio alla città in cui sono nata e vivo è un modo per farla conoscere, per farla entrare nell'immaginario degli altri che non la conoscono. Rientriamo in studio, non ci sono altre notizie da segnalare. Ringrazio Michele Manuni per la regia e il montaggio e l'appuntamento e per la prossima edizione. Ringrazio Michele Manuni per la prossima